Sai perché la traspirazione per noi esseri umani è così importante? Traspirare è un processo del tutto naturale, che non dovrebbe essere ostacolato. La sudorazione, infatti, aiuta a regolare la temperatura corporea, raffreddando il calore eccessivo del corpo. È grazie all'evaporazione del liquido sudorale che subentra, infatti, un benefico effetto di raffreddamento. Inoltre, con la sudorazione viene preservato il mantello acido della pelle, germi e batteri vengono rispinti e con ciò la pelle resta protetta. Tuttavia, la sudorazione rappresenta una cosa piuttosto fastidiosa. In genere, si forma un odore molto spiacevole, specialmente sotto le ascelle. Di questo non è responsabile solo il sudore in sé, bensì i batteri, che, decomponendo il sudore della pelle, producono un cattivo odore. Per ovviare a questo spiacevole problema, per fortuna, c'è il nostro Aloe Eva Shield Deo Stick di Forever, che non blocca la necessaria e naturale sudorazione, bensì ostacola la formazione dell'odore sgradevole di sudore. Impedisce, infatti, lo sviluppo dei batteri e procura una freschezza di lunga durata. Grazie all'aggiunta del nostro puro gel di Aloe Vera, cura al contempo anche la sensibile zona ascellare. Ciò è d'aiuto particolarmente dopo la depilazione quotidiana delle ascelle. Il nostro Aloe Vera Shield non contiene sali di alluminio, poiché questi chiudono i pori impedendo così una sana traspirazione. Non contiene nemmeno alcol. Aloe Eva Shield può essere quindi usato nel caso di pelli sensibili o ritate. La cosa migliore è iniziare la giornata all'insegna della freschezza, applicando il deodorante la mattina, dopo la doccia. Non lascia macchi sui vestiti ed emana un profumo piacevole e discreto. Che tu faccia sport o che sia impegnato nello shopping o nel lavoro quotidiano, il nostro Aloe Eva Shield è affidabile e procura una piacevole freschezza per l'intera giornata. Come tutti i nostri prodotti per la cura del corpo, abbiamo fatto testare anche Aloe Eva Shield dall'Istituto Dermatest, dal quale ha ottenuto il giudizio ottimo. Ciò rappresenta una garanzia di ottima qualità e di massima compatibilità con la pelle. Vi auguro molti piacevoli momenti e tanto benessere con i prodotti di Forever.